Una noce di verano Passarlo bomba, non pensare in nada La vita è piena di occasioni E voglio vivere fino al final E voglio vivere fino al final Tutta la notte voglio ballare Solo contigo voglio ballare Tutto il mio amore voglio donare Voglio sentirti dentro di me Il mio corazzo sta pieno di ti Tutto il mio amore voglio donare In i tuoi brazzi mi devo caer In un vertigo di caliente e dolce passione Siete sintonizzati su Radio Speranza in Blu La radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne Frequenza 87,6 MHz Buongiorno a tutti cari amici radioascoltatori E bentornati al consueto appuntamento Con Artisti in Blu Spazio dedicato ad artisti italiani E in particolare abruzzesi Oggi abbiamo un ospite speciale La poetessa Deborah K Benvenuta Deborah Grazie a tutti Allora ti faccio subito la prima domanda Come nasce la tua passione per la poesia? Guarda nasce dalla tenera età Quando restavo incantata di fronte a racconti Sia reali che fantastici Per cui avvicinarmi poi alla lettura È stato del tutto naturale E poi l'incontro con gli studi classici Ha cresciuto ancora di più La mia naturale propensione Verso il gusto del bello e l'arte in genere E quindi alla composizione mi sono dedicata Quando ho sentito la necessità di esternare Sensazioni e sentimenti Considerazioni e riflessioni Però collocandoli in un percorso volutamente introspettivo Che ho custodito gelosamente Senza condividerlo con nessuno Solo dopo anni In una seconda fase invece Mi sono lasciata convincere A condividerlo con il mondo esterno Attraverso la pubblicazione Infatti sono autrice di quattro raccolte letterarie E quindi posso dire che la mia è una passione Che nasce da un bisogno ancestrale Perché non ha un intento emulativo Nonostante riconosca con grande orgoglio Che la critica ha rilevato Paralleli con i miei predecessori illustri I quali Saba, Ungaretti, Montale, Calvino Ritengo però che il mio sia un bisogno ancestrale Perché per me scrivere versi È come tentare di fermare in quell'attimo L'indefinito che fa brillare di eterno il finito E lambire così il ponte dell'irraggiungibile Wow Da cosa tra ispirazioni per le tue opere? Da tutto ciò che colpisce la mia sfera emotiva Specie se induce all'introspezione E quindi favorisce dibattito interiore Ritengo infatti che lo scrivere sia un mezzo potente Per analizzare attribui del nostro essere E quindi metterci in migliore comunicazione Con il mondo esterno E con ciò che ci circonda Con gli altri Con ciò che ci circonda Tu hai pubblicato ben quattro raccolte di liriche Sì Di cosa trattano? E dimmi anche i titoli se vuoi Ho sempre cercato di differenziare le mie opere Per tematiche, ambientazioni spazio-temporali Stile e prospettive Partendo dalla prima opera Si tratta di un'antologia di 60 componimenti Ed è incentrata sulla ricerca del senso dell'esistenza Oltre all'illusione della conoscenza ordinaria Del vivere quotidiano Il titolo è Il carnevale della vita È costituita da due sezioni strettamente connesse tra loro In cui nella seconda intitolata A briglia sciolta Il clima prevalentemente cupo della prima parte Va via via dissolvendosi Per lasciare spazio a toni più nostalgici e malinconici Talvolta ridenti Perché nella natura E nel mondo parallelo dei sogni Si trova un momentaneo ristoro Quindi in pratica Il carnevale della vita è una sorta di burla allegorica del dolore di vivere In cui in una realtà quasi fittizia Le persone preferiscono all'occorrenza utilizzare maschere Per celare sia i buoni che i cattivi sentimenti E dal momento che temono di non essere accettate per come sono realmente Passando invece alla seconda raccolta È costituita da 40 componimenti E si intitola Amore l'incompiuto In essa descrivo l'amore Inteso come entità universale in continuo divenire Esso a mio avviso sboccia, divampa, si trasforma Sembra spegnersi Ma in realtà non ha mai fine Perché il suo campo d'azione è immenso E quindi come un araba fenice È in grado di rinascere dalle proprie ceneri Quindi l'amore non va inteso semplicemente come rapporto a due Ma in senso lato nei confronti di varie forme artistiche In particolare la poesia, la recitazione, il teatro E poi anche la terranatia, le tradizioni, il mondo animale Che molto spesso ha qualcosa da insegnare alla nostra specie Passando invece alla terza raccolta È complementare, dicotomica, contrapposta e speculare alla quarta È costituita da 35 componimenti Si intitola l'anima e il mare Ed è una mia focalizzazione di una concezione spirituale In cui la natura nella sua aurea di potenza ed estasi Assorge a consolatrice dell'anima e protettrice dell'esistenza Perché in essa è fortemente ravvisabile l'elemento divino E quindi ci sono delicati e freschi bozzetti In cui vige un clima di speranza e desiderio di rinascita Invece il corpo e la terra Che è l'ultima raccolta Costituisce con essa per tipologia e caratteristiche Una sorta di cofanetto ideale Ed ha toni più fisici e realistici Diversificati nello spazio e nel tempo Si parte dall'esperienza dolorosa di un corpo Che vuole tornare a vivere e ad amare Ma che subisce ancora gli assalti negativi del passato E quindi nonostante flashback sereni Si evidenzia l'universalità delle esperienze amorose Proprio per cercare, appoggiandosi l'un l'altro, di superarle Ok, vogliamo leggere qualcosa, qualche poesia Che hai scelto per noi Allora, posso leggere intanto dalla prima raccolta Si Una poesia che è abbastanza emblematica Delle tematiche che io affronto Perché i temi che sono a me più cari Sono lo smascheramento Il disincanto dell'apparenza L'auscultazione dei moti intimi L'indagare i segreti della vita Praticamente Si, è una ragazza molto profonda Si, grazie Il vago presaggire dell'irrefrenabilità del tempo È questione anche di carattere sociale E il tema magari scomodo della morte Questa poesia si intitola La realtà Si Deambulo Frastornata In una realtà quotidiana fittizia Imprigionata In un labirinto spettrale di specchi Che provano godimento Nel deformare le immagini Confondendone margini ed essenze Restituendone In un sadico gioco Di infiniti rimpalli Insospettabili Riflessi di verità Centrifugati Smembrati Ma ricomposti Placidamente Con macchinosa Perfetta precisione Quasi come Minute tessere In un mosaico Così da Rendere Folle La volontà Di varcare La soglia Del capire Complimenti Ti ringrazio Veramente Sei veramente profonda Lo ripeto Veramente tanto Ti ringrazio Vai con la seconda poesia Allora ne ho scelta una Che fa parte Della seconda raccolta E si intitola Anacronismo di Merletti E riguarda le tradizioni Abruzzesi Ed è stata anche premiata Dalla commissione tecnica Della 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 Socchiuse China di passione Sull'uscio di casa Tra viuzze Lastricate L'orgogliosa Tradizione Tramandatati Da tua madre Con negli occhi L'impotente Tristezza Di chi Conosce Il riso Beffardo Dell'asettico Consumismo Che va Inghiottendo Le ultime custodi Di un'arte Atavica Complimenti Bellissime Grazie Veramente bellissime Molto gentile Grazie Adesso andiamo in pausa musicale E poi ritorniamo ancora qui Con la poetessa Deborah K Grazie Ma non è difficile comprendere L'hanno lasciato in libertà Vive lontano Non è qua Ma forse si nasconde In mezzo agli alberi Voda veloce su di noi Fotografare tu non puoi Chiede a una farfalla Che gli faccia compagnia Ti abbandoni Liberi le mani Non ti piace stare sveglio Meglio di così Non saremo mai Ti addormenti Dimmi che lo senti Che ti sta toccando Piano Piano Quanto vuoi Come le carezze Che non hai Dicono che non tornerà Ma come lo chiamo Ci sarà Mi aiutava sempre A fare i compiti Voda veloce su di noi Cosa mi dice Tu non sai Voda raccontando Quando non lo sentirai Ti confonde Dopo ti riprende Quando vuole Ti cattura Sei sicura che Non lo vuoi con te Ti accompagna Mare che ti bagna E come fosse un temporale E sale dove vuoi Se ci credi Forse lo vedrai Chi sei? Dimmi cosa vuoi Cosa devi raccontare Chi sei? Dimmi come sei Moriremo crescendo Chi sei? Dimmi come fai A girare in tutto il mondo Chi sei? Dove volerai? Solamente con la fantasia Ti abbandoni Liberi le mani Non ti piace stare sveglio Meglio di così Non saremo mai Ti confonde Dopo ti riprende Quando vuole Ti cattura Sei sicura che E non ci credi E non lo vuoi Con te Chi sei? Dimmi cosa vuoi Cosa devi raccontare Chi sei? Dove volerai? Solamente con la fantasia Ti abbandoni Liberi le mani Non ti piace stare sveglio E meglio di così Non saremo mai Davvero noi Chi sei? Dimmi cosa vuoi Cosa devi raccontare Chi sei? Dimmi come sei Moriremo crescendo Chi sei? Dimmi come fai A girare in tutto il mondo Chi sei? Dove volerai? Chi sei? Ci sei? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Mi chiedo Ci sei? Ci sei? Volerai Volerai Chi sei? Dimmi come sei E con questa canzone stupenda di Enrico Ruggeri che tra l'altro so che è il tuo cantante preferito torniamo in diretta con Deborah Cappa Allora Deborah Quanto c'è di autobiografico nelle tue poesie? Qualche spunto autobiografico c'è sempre Poi la mia idea è quella di divulgare il più possibile in termini universali quindi si parte magari da qualcosa di autobiografico perché ritengo che la scrittura sia un mezzo potente per analizzare attribui del nostro essere però poi si cerca di restituire il tutto in termini più universali Progetti futuri? Sicuramente c'è l'idea di pubblicare alcune delle numerose raccolte inedite e poi di divulgare le mie opere attraverso forme di collaborazioni con artisti di altri settori come già avvenuto in passato perché ritengo che la contaminazione e la commissione delle arti sia il mezzo ideale per accrescere la creatività e il talento di ciascuno anche approfittando della spinta emozionale degli astanti Senti, ultima domanda dove possiamo seguire la tua attività artistica? Sicuramente su internet si trovano molte informazioni So che sei molto seguita su internet Quindi ho creato anni fa l'ideato e creato il sito dei miei libri all'indirizzo webalice.it occhi blu underscore oltremare e qui in sezioni ci sono vari approfondimenti che riguardano il contenuto delle opere alcune poesie tratte da ciascuna da ciascuna opera link a diversi articoli di giornale interviste, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche televisive, manifestazioni culturali e poi c'è anche una nutrita sezione video c'è il link al canale YouTube che curo anch'io e in esso ci sono video di alcuni reading a cui ho preso parte e ovviamente c'è anche la sezione social con profilo e pagina Facebook per avere notizie sulle novità per acquistare i tuoi libri ci sono anche indicati punti vendita ovviamente e poi c'è il profilo il biglietto virtuale ci sono tutti i crismi ci sono tutti i link va bene Deborah io ti ringrazio infinitamente per essere stata con noi e averci regalato veramente dei bei momenti di poesia ti ringrazio di alta poesia oserei dire grazie con un linguaggio e uno stile veramente impeccabile grazie mille grazie a voi per avermi ospitata io ringrazio tutti i nostri amici radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima con la rubrica artisti in blu grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi